Terremoto giudiziario a Lago Negro, nel mirino della Procura, la gestione dei fondi relativi al Parcogiada, 26 le persone indagate, tra le quali l'attuale e l'ex primo cittadino. Impossibilitate a derogare i servizi fondamentali, 76 province italiane si sono rivolte alle rispettive procure, esposto cautelativo anche del presidente della provincia di Potenza, Nicola Valluzzi. Collaudata a fine 2014, la Cavonica è già a pezzi, l'assessore Benedetto, accerteremo le responsabilità. Facevano prostituire donne trans da cui pretendevano il pagamento di 50 euro al giorno, due donne di Napoli nel mirino della Questura di Potenza, affittavano e gestivano appartamenti anche nel capoluogo lucano. Violazione di domicilio, 2 milioni 300 mila, le firme già raccolte a sostegno della proposta di legge dell'IDV e del sindacato di polizia penitenziaria, stamane la presentazione dell'iniziativa in regione. Come ogni mercoledì al termine del Tg torna l'appuntamento con Beauty e Makeup, oggi la nostra estetista Marianna Grieco ci parlerà di epilazione femminile. Ben ritrovati con l'informazione sulla nuova tv, lo avete sentito dai titoli e bufera giudiziaria al Lago Negro. Sono al momento 26 gli indagati, fra i quali anche l'attuale sindaco Pasquale Mitidieri, il suo predecessore Domenico Mitidieri, per abuso d'ufficio, truffa e falso ideologico in relazione ai fondi destinate al Parco Giada, una struttura utilizzata in passato come giardino zoologico e trasformata successivamente in fattoria didattica e centro sportivo. Secondo quanto trapelato, non ci sarebbe corrispondenza tra le fatture presentate dall'amministrazione, e lavori effettivamente eseguiti nel Parco, nell'inchiesta sono coinvolti a vario titolo consiglieri, assessori, dirigenti di vari uffici dell'ente e imprenditori al vaglio delle fiamme gialle che stamane si sono recate in municipio, come abbiamo visto da queste immagini, fatture e delibere relative alla gestione del Parco Giada negli ultimi cinque anni. Per questa ragione l'inchiesta coinvolge sia la vecchia che la nuova amministrazione comunale. Sull'indagine coordinata dalla Procura di Lago Negro torneremo ad aggiornarvi nelle prossime edizioni dei nostri Tg. Impossibilitate a derogare i servizi fondamentali, 76 province italiane si sono rivolte alle rispettive procure. Un esposto cautelativo è stato presentato anche dal Presidente della Provincia di Potenza, Nicola Valluzzi, il servizio di Michelangelo Russo. Un esposto cautelativo per segnalare la condizione oramai insostenibile riguardo la manutenzione di strade e scuole di competenza provinciale e mettere pienamente a conoscenza dell'estrema criticità in cui versano le infrastrutture primarie dei territori, oltre che le comunità, anche la magistratura. La decisione è stata assunta dai 76 presidenti delle province italiane a darne notizie al Consiglio Provinciale di Potenza e la Presidente della Provincia di Potenza, Nicola Valluzzi. Nel corso della seduta Valluzzi ha comunicato anche la nomina vicepresidente dell'ente del consigliere provinciale sindaco di Albano di Lucania, Rocco Guarino. Successivamente è stata formalizzata la costituzione dei gruppi consigliari Partito Democratico Popolari e Riformisti per la Provincia, Gruppo Misto, e dei rispettivi capigruppo Giovanni Vita, Daniele Giorgio Di Oia e Rocco Guarino. L'intero consiglio ha infine approvato la mozione sulla riapertura del Museo Naturale del Vulture di Monticchio, presentata dal consigliere provinciale Mauro Tucciariello, il quale ha sottolineato l'importanza della struttura sia sotto il profilo dell'attrattività, sia come strumento per la valorizzazione storico e culturale del luogo. E parliamo di viabilità collaudata a fine 2014, la Cavonica è già a pezzi, sentiamo i dettagli nel prossimo servizio. L'osservatorio regionale delle opere pubbliche insediato al Dipartimento Infrastrutture e Mobilità e presieduto dall'assessore Nicola Benedetto dedicherà un'apposita sezione di lavoro sulla grave situazione di transitabilità e rischio incolumità che presenta la Fondovalle Cavonica. L'assessore ha definito l'arteria uno degli esempi peggiori di come si costruiscono infrastrutture viarie e di conseguenza di come si impiegano risorse pubbliche. La strada, aperta nel marzo 2013 e collaudata a fine 2014, è in condizioni di completo degrado. In molti punti l'asfalto sembra essere letteralmente sbriciolato, in altre parti si è gonfiato pericolosamente al punto da non garantire la percorribilità in sicurezza dell'intera carreggiata. È ceduto un lungo tratto di asfalto compromettendo un'intera corsia e proseguendo. L'arteria è costellata da decine di buche laterali con asfalto inghiottito e lunghi spacchi che si allargano pericolosamente, sempre più specie nelle stagioni autunno-inverno. Si registra in particolare l'assenza di opere di incanalamento dell'acqua che provoca lo scivolamento di fiancate e terreno sulle carreggiate. Insomma, è una situazione che merita un rapido intervento per mettere in sicurezza l'arteria e nel contempo, ha aggiunto Benedetto, richiede di accertare se ci sono responsabilità sulle modalità con cui l'opera è stata realizzata. Se è stata realizzata come da progetto, cheppure ha subito varianti in corso d'opera, se chi doveva dirigere i lavori e controllare che venissero fatti a regola d'arte ha fatto il suo dovere. Ed è chiusa al transito da stamane in entrambe le direzioni la strada statale 401 dell'Alto Ofanto e del Vulture, all'altezza di Rapone, il provvedimento per consentire il recupero di un mezzo incidentato finito in una scarpata nella giornata di lunedì. Prosegue il viaggio fra i comuni lucani del presidente dell'Aggiunta regionale Marcello Pittella. Stamane il tour Basilicata in Comune ha fatto tappa a Sarconi, a cui si riferiscono le immagini dove il governatore ha risposto alle domande degli alunni dell'Istituto Comprensivo Abate Racioppi. Agricoltura, imprenditoria giovanile, petrolio e ambiente, i temi oggetto del confronto nel pomeriggio. È previsto un secondo appuntamento a Moniterno presso il Cineteatro Pino dove Pittella incontrerà le associazioni ambientaliste. Ed ora torniamo a parlare della tragedia. Nelle acque di Maratea si sono spente nel pomeriggio di ieri le speranze di ritrovare in vita Renzo Cetraro. Il 19enne era uscito con un amico per una battuta di pesca, ma la loro barca è stata travolta dal mare in burrasca. Migliorano invece le condizioni di Giuseppe Amendolara, ritrovato vivo dopo 11 ore, aggrappato all'imbarcazione. Sentiamo Cristina Libonati. Le speranze di ritrovare anche Renzo Cetraro vivo si sono spente qualche ora dopo il ritrovamento del suo amico Giuseppe Amendolara. I due erano usciti per una battuta di pesca lunedì verso le 16. Date le condizioni ottimali, con la loro barca avevano preso il largo tra Tortora e Praia Mare. Nelle ore successive però il mare mosso e il vento forte hanno impedito ai ragazzi di tornare a riva. Intorno alle 22, ora in cui era abitudine dei giovani rincasare, i familiari hanno cominciato a preoccuparsi. Non vedendoli rientrare hanno dato l'allarme. Immediatamente sono state avviate le attività di ricerca con una motovedetta, coordinate dalla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria. Le ricerche dei due giovani sono state intensificate martedì mattina con altre tre motovedette partite da Maratea e un elicottero decollato dalla Mezzia Terme. Il 29enne Giuseppe Amendolara, originario di Trecchina ma residente a Tortora, è riuscito a restare aggrappato al dorso della barca rovesciata dal mare mosso. Ritrovato a largo di Castrocucco, il ragazzo è tuttora ricoverato presso l'ospedale di Lago Negro. Naturalmente scosso per la tragedia che lo ha coinvolto, le sue condizioni non destano preoccupazioni, nonostante il lungo periodo di ipotermia a cui è stato sottoposto il suo corpo. Il giovane è rimasto in acqua per più di 11 ore. Non c'è stato nulla da fare invece per il suo compagno di pesca. Renzo Cetraro è stato ritrovato privo di vita da una motovedetta della Guardia Costiera a Marina di Maratea, a 4 chilometri più a nord del punto in cui era stato ritrovato vivo l'altro giovane. Sconvolto l'amico e i familiari intorno ai quali si è stretta tutta la comunità di Praia Mare, dove il ragazzo viveva. E andiamo avanti. Con la cronaca facevano prostituire donne e trans, da cui pretendevano il pagamento di 50 euro al giorno due donne di Napoli che affittavano e gestivano appartamenti anche nella provincia di Potenza sono indagate per induzione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Sentiamo. Affittavano e gestivano appartamenti delle province di Potenza, Cosenza, Brindisi e Foggia, dove facevano prostituire donne e trans, 11 in totale di nazionalità sia italiana sia straniera, da cui pretendevano il pagamento di 50 euro al giorno a titolo di contributo spese. Gli appartamenti venivano presi in locazione direttamente, oppure allo scopo di rendere più difficoltose le verifiche sulla riconducibilità degli stessi alle due indagate, facendo figurare come conduttrici alcune delle prostitute ospiti. La gestione degli appartamenti faceva in ogni caso capo alle due donne, che si occupavano di reclutare sempre nuove prostitute, assegnando loro un telefono da utilizzare per l'attività ed addirittura un tablet col quale gestire gli annunci online. Ed è stato proprio sul sito internet Bacheca Incontri che sono stati individuati diversi annunci riconducibili anche ad appartamenti di Potenza. Ormai da diversi anni viaggia attraverso la rete la nuova frontiera del sesso a pagamento, con escort e prostitute pronte a segnalare in tempo reale la loro nuova location, con annunci dettagliati e i clienti che non perdono occasione per postare anche recensioni sulle prestazioni. Le indagini sono partite dopo l'arresto della più anziana delle indagate nello scorso mese di aprile. L'analisi dei dati contenuti nel cellulare, operati con l'ausilio della Polizia Postale di Potenza, hanno consentito agli inquirenti di acquisire i primi elementi riguardanti la vasta attività di sfruttamento della prostituzione. In Basilicata l'intensità del fenomeno delle agromafie è a un livello medio-basso e la regione presenta dati in confronto ad altre aree del sud con minore incidenza. Potenza occupa il 34esimo posto della classifica, Matera il 48esimo. I dati sono stati resi noti dalla Coldiretti Basilicata sulla base del rapporto Coldiretti-Urispes e Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare presentato a Roma. Il presidente e il direttore regionale della Coldiretti, Pier Giorgio IV e Francesco Manzari, hanno spiegato che dal rapporto è emerso che il volume d'affari complessivo annuale dell'agromafia in Italia è salito a 21,8 miliardi di euro con un balzo del 30% nell'ultimo anno. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità. Global Service Società cooperativa impegnata principalmente nei campi dell'accoglienza e dell'integrazione per lo sviluppo di un welfare sociale sempre migliore. Immigrati, anziani e minori rappresentano il target di persone a cui si rivolge principalmente Global Service allo scopo di garantire loro il diritto ad una vita dignitosa. Per informazioni via della tecnica 2480500 potenza 0971-1940-572 info-globalservicessociale.it Segnale ingiustizie di servizi ed eventi e manderemo in onda i tuoi video nella nuova TG. Contatto diretto con la nuova TV Manda foto e video al nostro numero WhatsApp 346-8353-824 E dopo la pubblicità riprendiamo il nostro TG e parliamo dell'espload dell'export lucano tra le regioni che forniscono il più ampio contributo alla crescita delle esportazioni c'è la Basilicata ed è tutto merito dell'FCA. Sentiamo Mara Risola Giprenegate e Fiat 500X spianano la strada al Made in Italy un 2016 da record per lo stabilimento FCA di Melfi che ha avuto un impatto non solo sull'export lucano ma anche su quello meridionale e nazionale. In Italia nell'ultimo anno infatti l'esportazione è cresciuta dell'1,2% grazie all'importante incremento del meridione, più 8,5% e all'expload della Basilicata, più 53,5% e quanto emerge dai dati Istat appena pubblicati sul commercio estero un trend che si è identificato già nei trimestri precedenti e che oggi giunge al culmine. Tutto ebbe inizio quando tra fine 2014 e inizio 2015 Giprenegate e Fiat 500X si affiancarono alla produzione lucana dell'appunto e così tra le regioni che forniscono il più ampio contributo positivo alla crescita delle esportazioni nazionali si segnala proprio la Basilicata ed è sull'asse Melfi-USA che si sviluppa il mercato FCA. L'analisi regionale per mercati di sblocco mostra infatti che nei 12 mesi del 2016 le vendite della Basilicata, più 489,5% forniscono un impulso positivo all'export nazionale mentre flettono quelle del Piemonte proprio verso gli Stati Uniti meno 27,3% e del Lazio verso il Belgio, meno 15,6% 2.300.000 firme sono state già raccolte a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare al fine di inasprire le pene per il reato di violazione del domicilio e aumentare la possibilità di legittima difesa oggi in Regione a Potenza la presentazione dell'iniziativa promossa da Italia dei Valori e dal sindacato di Polizia Penitenziaria il servizio è di Mariolina Notargiacomo 2.300.000 firme ferme nel cassetto sono la dimostrazione della scarsa attenzione del Governo Centrale alla questione sicurezza dei cittadini e dei territori così il segretario generale del sindacato di Polizia Penitenziaria Aldo Di Giacomo oggi a Potenza per presentare la proposta di legge sulla violazione di domicilio e la legittima difesa affiancato da Angelo Rosella, segretario di DV di Basilicata Di Giacomo all'ottavo giorno di ciopero della fame ha spiegato alla stampa i contenuti essenziali della proposta di legge redatta in collaborazione con Italia dei Valori i recenti fatti di cronaca darebbero pienamente ragione alle motivazioni alla base della nuova formulazione della legge e il numero delle sottoscrizioni raggiunto rappresentano senza dubbio la testimonianza di un'esigenza fortemente sentita dalla cittadinanza ma pare proprio che dalle camere non ci sia alcun segnale di interesse alla proposta di legge e questo evidentemente la dice lunga su come la politica si allontana dai problemi reali delle persone del disinteresse che ha sulle esigenze, sulle istanze che i territori evidenziano ebbene io ho avuto modo di confrontarmi su questa iniziativa su queste firme al Senato e pare che resteranno ferme per questo ho inteso portare avanti la voce di milioni di italiani una parte hanno firmato un'altra parte non hanno potuto per una questione di tempo che chiedono con modo forte che questa legge sulla legittima difesa venga cambiata tre gli elementi essenziali chi ti entra dentro casa non deve rispondere di un danno che subisci lo devono sapere il raddoppio delle pene ma soprattutto la mancanza di eccesso di legittima difesa il delinquente che è quello che entra non invitato non il cittadino deve sapere che se entri in casa di qualcuno e si prende una botta in testa se la prende si deve stare zitto perché non si entra nelle abitazioni delle persone per rubare o per fare altro in favore della proposta di legge anche i commercianti e imprenditori nel suo intervento incoronata a Lucia presidente dell'associazione terziario donne di confcommercio ha auspicato a breve la discussione della riforma invitando tutti gli imprenditori a firmarla dove è possibile firmare come vi siete organizzati avete anche allestirete anche dei banchetti sia come sindacato di polizia penitenziaria sia come IDV come si procede ancora per continuare a raccogliere le firme si può firmare ancora per sei mesi fino a settembre tutti i comuni italiani sono abilitati per ricevere le firme per questo ognuno di voi potrà invitare gli amici i parenti ad andare a firmare presso il proprio comune da oggi 15 marzo presso lo sportello anagrafico di Piazza Matteotti a Potenza attivo il rilascio della nuova carta di identità elettronica a renderlo noto e l'amministrazione ricordando che la carta è dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza che memorizza i dati del titolare e nel prossimo servizio parliamo di Sanremo italiani la manifestazione Canora organizzata ieri al centro di accoglienza Auxilium di Ferrandina l'iniziativa si inserisce nel percorso di integrazione dei migranti che attraverso la musica hanno potuto imparare la lingua italiana divertendosi sentiamo Carla Zita promuovere la solidarietà e l'integrazione attraverso le note di alcune delle più famose canzoni italiane è l'obiettivo di Sanremo italiani manifestazione arrivata alla sua seconda edizione promossa dal centro di accoglienza Auxilium di Ferrandina dove si sono esibiti sul palco gli ospiti dei Cara di Bari e di Brindisi di Mondo Migliore e di Rocca di Papa gestiti dalla cooperativa Auxilium ad aprire l'evento la telefonata in diretta di Albano Carrisi che ha voluto salutare i partecipanti alla serata la rassegna canora nasce da un'idea di un insegnante d'italiano del centro di accoglienza Auxilium di Ferrandina e consiste nell'insegnare la lingua attraverso le canzoni che hanno segnato intere generazioni di italiani a vincere la seconda edizione di Sanremo italiani Mike Ege un ragazzo nigeriano ospite del Cara di Brindisi che ha cantato Cambiare di Alex Britti canzone che ha prevalso sulle altre undici in gara all'iniziativa hanno partecipato tra gli altri il vescovo di Matera Monsignor Giuseppe Cagliazzo il prefetto di Matera Antonella Bellomo ed il responsabile della task force sull'immigrazione della regione basilicata Pietro Simonetti Sì un modo molto bello per imparare la lingua un modo simpatico e divertente per studiare per loro è importantissimo conoscere le lingue è la prima opportunità la prima possibilità per integrarsi davvero questi ragazzi spesso si discute sono richiedenti asilo sono clandestini profughi in realtà sono semplicemente persone persone che scappano o dalla guerra o dalla povertà ci sono delle regole che vanno rispettate lo Stato le deve far rispettare a noi spetta accoglierli accoglierne il rispetto delle regole appunto e quindi facilitare il loro inserimento nella società sicuramente la musica è uno strumento meraviglioso perché attraverso le note esprime delle melodie che come dico sempre io eleva lo spirito e se eleva lo spirito mette in comunione i cuori e quando i cuori battono insieme allora capiamo che non c'è differenza ma c'è armonia abbiamo diversi diciamo diversi comuni che già ospitano migranti circa la metà dei 31 comuni della provincia di Matera e abbiamo qualcuno ancora che si è proposto e che è disponibile ad accogliere i profughi la Basilicata da questo punto di vista sta dando una prova di grande accoglienza in Basilicata nel 2016 hanno lavorato 44 mila migranti in gran parte comunitari ma con una presenza robusta di extracomunitari e sono persone che sorreggono l'economia in agricoltura in zootecnia in altri settori quindi vuol dire l'accoglienza già c'è da anni adesso si tratta di sviluppare un'attività formativa un'attività di sbocchi lavorativi che sia all'altezza della situazione si annuncia all'insegna delle novità l'edizione della festa del 2 luglio 2017 in onore della protettrice di Matera Maria Santissima della Bruna con l'entrata in funzione del nuovo laboratorio di piazzetta del carro trionfale a Rione Piccianello e le attese legate al manufatto di cartapesta incentrato su un bozzetto ricco di motivi pannelli e statue sul tema tutti i credenti stavano insieme avevano ogni cosa in comune tratto dagli atti degli apostoli le novità sono state illustrate stamane nel corso di una conferenza stampa a Matera alla quale hanno partecipato tra gli altri il presidente dell'associazione Maria Santissima della Bruna Domenico Andrisani l'artista Andrea Sansone che sta realizzando il carro trionfale e l'assessore ai lavori pubblici Michele Casino e da parte mia è tutto ora la linea a mano della Scalese per le notizie sportive grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata ben ritrovati dalla nuova sport in primo piano quest'oggi come sempre il calcio e la Lega Pro con il Matera che è pronto a recuperare due tasselli importanti come Mirko Carretta e Didiba mentre il Meff è tornato alla volo per preparare il match contro la rivelazione del Girone C della Virtus Franca Villa messa da parte la sindrome delle cinque sconfitte consecutive in casa Matera è arrivato il momento di scaldarsi col tepore del ritorno alla vittoria per la sfida di domenica ad aggrigento mister Auteri dovrebbe poter recuperare almeno altri due elementi alla causa come Mirko Carretta dopo la tristissima aggressione subita all'indomani della sconfitta col Siracusa e Didiba di ritorno con gli impegni della nazionale camerunense il cacciatore africano praticamente non ha ancora fatto vedere quanto potrà dare al Matera e dunque in un particolare momento di difficoltà dovrà mostrare il suo valore intanto contro i siciliani domenica tornerà Salandria che ha scontato il suo turno di squalifica contro la Regina da valutare ancora quelle che saranno le condizioni di ingrosso uscito malconcio due settimane fa dalla partita di Catanzaro il successo contro il Catanzaro di domenica scorsa ha rilanciato il Melfi se non in classifica almeno nel morale due successi consecutivi hanno permesso alla compagine giallo-verde di non affondare ulteriormente in classifica di riconquistare una piazza play-out e di tenere a bada una bibonese ringaluzzita dal successo contro la Virtus Francavilla avversario proprio del Melfi domenica prossima per la sfida del Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana mister Diana non potrà disporre del difensore Samuele Romeo squalificato per ben due turni per aver tentato di colpire con lo schiaffo un avversario durante la gara nel match di domenica scorsa col Catanzaro restiamo in Lega Pro con le decisioni del giudice sportivo inflitti due turni di squalifica a Ramzi Aia della Fidelisandria e a Samuele Romeo del Melfi un turno di stop invece a Gianluca Musacci del Messina Filippo Lorenzini della Casertana a Pietro Cianci della Fidelisandria Andrea Mazzarani del Catania a Kenneth Van Ransvik del Catanzaro Alessandro Albertini della Virtus Francavilla Luigi Silvestri e Luigi Viola della Bibonese combinati 2.500 euro di multa a Lecce 1.000 euro al Foggia e alla Juve Stabia 500 euro invece a Catania Virtus Francavilla e Taranto e facciamo un balzo fuori dal campo perché questa mattina l'intero movimento calcistico regionale si è svegliato rincorato dalla notizia che il tecnico di Venosa Giuseppe Palumbo ha abbandonato il centro riabilitativo Don Gnocchi ad Acerenza per far ritorno a casa dopo 98 giorni da quel maledetto 5 dicembre quando un ictus colpì l'ex trainer di Paganese Melfi Ilione Venosino si è messo definitivamente alle spalle il percorso più ardo del suo pieno recupero visto che questa mattina intorno alle 11 mister Palumbo ha fatto ritorno a casa dopo quasi 100 giorni grazie alla sua determinazione l'allenatore Lucano è riuscito a vincere la partita più importante quella per la vita ed ora dopo aver riabbracciato la sua famiglia vuol riprendersi con la sua tenacia anche l'altro amore che la malattia gli ha momentaneamente strappato via come il calcio e passiamo alla Serie D con il Picerno che recupera pedine importanti come Ola e Dagresta con il Francavilla che è chiamato invece a centrare il successo casalingo contro il Cinzia il Potenza invece proverà a mettere al sicuro la salvezza battendo il Ciampino al Viviani mentre la Vultur sarà attesa dal difficile ostacolo del Gravina in casa Picerno si attendeva una notizia nell'area da diversi giorni Ola è guarito e pertanto il difensore farà parte dei convocabili per la trasferta di Genzano di Roma contro il Cinzia a disposizione anche Francesco Agresta che ha scontato i suoi due turni di squalifica in pratica solo l'infortunato Palumbo non sarà tra i convocabili la partita contro il Cinzia segnerà il ritorno in panchina di Pasquale Arleo che ha dovuto scontare tutti e tre i turni di squalifica dopo l'espulsione nel derby contro la Vultur in casa Francavilla è tempo di tornare al lavoro dopo il rompete le righe indetto dalla società dopo il turno di sosta del Girone H per la concomitanza con la Via Reggio Cup la truppa agli ordini di Mister Biagioni sta proseguendo al Fittipaldi il lavoro di preparazione in vista del match casalingo di domenica contro l'Anzio quando i Sinici proveranno a centrare la terza vittoria di questo complicato 2017 compiendo un importante passo verso la salvezza contro una delle sorprese del campionato guidata in panchina dall'ex Serie A Gaetano D'Agostino il Potenza si è ritrovato ieri a Viviani per riprendere il lavoro di preparazione in vista del match casalingo di domenica contro il Ciampino col calcio d'inizio fissato alle ore 15 come d'accordo intercorsi tra le società tutta a disposizione del trener capitolino fatta eccezione per il 96 lucchese che lo scorso venerdì ha subito in allenamento un'innaturale torsione del ginocchio in uno scontro di gioco con il compagno Manetta il giovane 96 verrà dunque valutato in questi giorni dallo staff sanitario presenti invece due nuovi tesserati con il 96 mazzi al 90 lazzarini pronti alla prima chiamata in rosso-blu bisognerà ancora attendere invece l'eventuale deroga della FIGC per poter procedere con il tesseramento dell'attaccante altissimi ancora costretto al riposo precauzionale Todino sempre alle prese con una dolorosa metatarsalgia alla pianta del piede che andrà monitorata giorno per giorno assente giustificato il 98 Damiano Claps che ieri nel giorno del suo compleanno ha esordito con la rappresentativa di Serie D nella Via Reggio Cup trovando il campo nel quarto d'ora finale del match contro i parietà del Bari terminato 1-1 la Vultur si appresta ad affrontare il primo dei due appuntamenti tanto cruciali quanto impegnativi prossimo impegno infatti a Gravina una delle big del torneo la compagine Vulturina oltre a punti preziosi per la classifica è alla ricerca della compattezza che fino a questo momento ha distinto la compagine in campionato i due risultati ottenuti contro Gelbis e Nenardò hanno mostrato come i ragazzi di Sosa siano in grado di mettere in difficoltà qualsiasi avversario allo stesso tempo però i giocatori si troveranno a sfidare una delle squadre con più vittorie casalinghe e con una media goal da capogiro al Corona la Vultur costrinse Pugliesi al pareggio rischiando di portare a casa la partita con un rigore poi sbagliato da Schiavino nei minuti finali e dalle competizioni nazionali facciamo ritorno nei nostri confini facendo il punto del campionato cadetto regionale quello di promozione lo sport in Pignolla si è ritrovato ad affrontare il Tursi con qualche assenza di troppo e anche con la deabbendata che gli ha voltato le spalle perdere 1-0 fallire due rigori e colpire diversi legni non è certo cosa di tutti i giorni certo è che con la prima sconfitta interna lo sport in Pignolla ha permesso agli inseguitrici di tornare in corsa per il primo posto la Fides Scalera si è rituffata sul campionato battendo con determinazione i Rotunda Maris non senza soffrire non ha sofferto per niente Rotonda che ne ha rifilati 7 alla F7 Rionero anche se il risultato ha preso forma solo nella ripresa restando in chiave playoff Ferrandino e Candida Melfi appaiate a quota 51 consolidano il quarto posto grazie alle vittorie di misura ottenute nei rispettivi impegni Caragonesi è bastata la rete di Miccoli per avere ragione dell'Oraziana Venosa mentre la rete di Zaccagnino è bastata al Candida Melfi per espugnare il difficile campo del Miglionico in chiave playoff importante vittoria per l'Avigliano di Mister Petilli che torna al successo pieno battendo tra le muramiche Iria Latella i Granata salgono dunque a quota 23 condividono il quinto ultimo posto con Lanzi uscito indenne grazie ad una rete di Starna nei minuti finali dal campo di Salandra in quello che era un altro importante scontro diretto punti pesanti anche per il Bella che rimonta con una doppietta di Parisi abbattuto all'Andreolo il Paternicum conserva la vetta della classifica dei marcatori il bomber dell'Oraziana Venosa di Tolve anche se Serritella agganciata a quota 18 Pietragalla ferma a quota 16 Dametti Starna invece agganciata a 15 Lombardi di Rotonda mentre Cantisani e Chisena si sono affiancati a Campisano e concludiamo passando ai motori perché domenica 2 aprile si darà il via la terza edizione del TKL 2017 con la prima gara di campionato al Cartodomo o Soleo di Roccanova e per l'occasione ci è venuto a trovare nei nostri studi il presidente di motori e motori e organizzatore della manifestazione Nicola Sandivashi Nicola Sandivashi responsabile ideatore e presidente di motori e motori il sodalizio che presenta questa terza edizione del Trofeo Carting Lucano disciplina cartistica ritornata in Basilicata dopo l'assenza di circa 10 anni partiamo il 2 aprile 2017 da Roccanova dopo aver messo da parte la pista La Palomba di Matera per problematiche sull'impianto e quindi che potevano dare delle conseguenze negative per l'aspetto della competizione stessa come dicevo partiamo da Roccanova al 2 aprile con la prima del Trofeo Carting Lucano la prima del campionato regionale AC Sport quest'anno con una nuova una new entry della regione Calabria quindi insieme alla Puglia e alla Basilicata Nello stesso appuntamento avremo anche il prestigiosissimo Challenge Rotax destinato e dedicato al trofeo di marca Svizzero continueremo poi dopo subito con la seconda gara fuori regione ossia Martina Franca il 7 di maggio l'11 giugno ritorneremo ancora a Roccanova con anche la Rotax Cup poi ancora ci vedremo al cartodromo Overdrive di Salandra per avere il secondo appuntamento del regionale di zona 8 e la quarta gara del Trofeo Karting Lucano questo il 2 luglio mentre il 17 settembre chiudiamo l'appuntamento di quest'anno al cartodromo Don Paolo di Montalbano Ionico con una cronocart a due gare con due punteggi e alla fine ci sarà il colui che si aggiudicherà e rientrerà nell'albo d'oro per il terzo anno del Trofeo Karting Lucano e con il Trofeo Karting Lucano si conclude il nostro ampio focus inerente a tutte le discipline sportive lucane rimandando l'appuntamento alla prossima edizione del Tg grazie mille per essere stati con noi e buon proseguimento con le previsioni meteo a cura di Ghetano Brindisi il versante adriatico dell'Italia è attraversato da una debole e veloce perturbazione che è accompagnata da venti piuttosto sostenuti da nord e che darà qualche effetto nella giornata odierna sulle regioni meridionali da domani il tempo tornerà a migliorare ovunque grazie al nuovo aumento della pressione che garantirà bel tempo per un po' di giorni sulla nostra regione avremo una nuvolosità irregolare in ulteriore aumento nel corso della mattinata specie sulle zone interne dove non si possono escludere delle deboli ed isolate precipitazioni qualche nevicata interesserà l'appennino lucano a quote superiori ai 1200-1400 metri di quota dalla sera è previsto un generale miglioramento a partire da nord le temperature saranno in lieve e locale aumento nei valori minimi e in debole flessione nei valori massimi a causa della maggior nuvolosità a potenza minime di 0 gradi e massime di 9 a matera minime di 3 gradi e massime di 13 i venti saranno ovunque settentrionali con tendenza a rinforzare nel corso della giornata i mari sia lo ionio che il tirreno risulteranno generalmente poco mossi previsione per domani un nuovo aumento della pressione è previsto sia al suolo che in quota e questo favorirà un generale ristabilimento delle condizioni atmosferiche qualche nube residua è prevista nelle zone interne ma senza fenomeni associati le temperature potrebbero calare leggermente nei valori minimi mentre resteranno stazionare in quelli massimi minibili